Per noi occidentali, e poi le neuroscienze ci stanno aiutando molto a superare questo modo di vedere la cosa, la coscienza è molto identificata con l'io, cioè con la parte di noi che percepisce la realtà e si percepisce nella realtà. E siccome è identificata con l'io, è anche identificata con forme di controllo e con i processi cognitivi che realizzano queste forme di controllo. Cioè per noi, e guardate che non sto dicendo che questa mappa è sbagliata, perché queste mappe sono complementari, è bellissimo questo. Che ha ragione il sole e torto la luna? No, è possibile dirlo, hanno ragione tutte e due. E per fortuna in determinati momenti del giorno il buio incontra la luce, perché altrimenti non ci sarebbe possibilità di far comunicare le parti di noi. Allora, dicevo, per noi l'esperienza percettiva, nella nostra percezione, muove dai sensi. E quindi è successo nella nostra storia culturale che abbiamo un po' scotomizzato, cioè distanziato molto, quello che possiamo controllare con i sensi e quello che con i sensi controllare non possiamo. La luce e il buio. Ieri Vincenzo Tallarico parlava della morte. Ora, le nostre lingue, le lingue che parliamo, ormai lo sappiamo, si muovono da una lingua comune, che è stata ricostruita e che noi chiamiamo indoeuropeo. Un grande intellettuale, un professore enorme, che si chiama Franco Rendic, ha scritto il dizionario etimologico comparato di indoeuropeo e fa un'ipotesi, che è un pochino più di un'ipotesi, molto importante su come nasce la parola morte. Nasce da una sillaba MR che vuol dire sostanzialmente muoversi ai limiti del villaggio. Perché muoversi ai limiti del villaggio? Perché rappresenta proprio il movimento del corteo funebre verso una zona del villaggio dove venivano non sepolti, ma lasciati i morti. Succedeva che colui che aveva questa funzione, in antropologia chi accompagna le anime, noi lo chiamiamo psicopompo con una parola che fa un po' ridere, ma che vuol dire accompagnatore dei morti, delle anime, lo psicopompo guidava il corteo funebre ed era un corteo ballato e cantato, e dopo vedremo così, perché fino al bosco dove venivano lasciati i cadaveri. Venivano lasciati dentro zone non abitate, boscose, all'ombra degli alberi, nel buio, perché diventassero nutrimento per gli animali e la vegetazione. erano completamente nudi, normalmente indossavano un monile durante i defunti. Ecco, lo psicopompo, che è poi lo sciamano, ora ci arriviamo, entrava nel bosco, toglieva il monile da dosso al defunto e lo portava come un trofeo di nuovo al villaggio regalandolo a un giovane del villaggio a cui era come se cedesse le qualità migliori del defunto. Le cedeva a uno, ma era una cessione a tutti, così come lo psicopompo lavorava lui, ma lavorava per tutti. La sua funzione era collettiva. Uso la parola sciamano perché in tutte le tradizioni orientali, delle medicine tradizionali, le medicine tradizionali sono quelle che sono nate anticamente, ma sono arrivate fino a noi. La medicina cinese è una medicina tradizionale, la medicina indiana ayurveda è una medicina tradizionale, la medicina tibetana è una medicina tradizionale, perché esiste ancora. La medicina etrusca è una medicina antica, perché non esiste più, non è più praticata. Allora, le medicine di tradizione prevedono un guaritore. Noi oggi usiamo il termine sciamano estensivamente per identificare il guaritore di qualunque di queste medicine, ma il termine sciamano che usiamo estensivamente e non a caso, in realtà localizza un'area precisa, che è l'area siberiana, il termine sciamano è un termine tanguso, che viene da una radice, anche quella indoeuropea, che significa, saman vuol dire bruciare. E viene usato un termine che vuol dire bruciare perché lo sciamano lavora in condizioni febbrili, perché la febbre, e dopo vediamo come raggiunge lo stato febbrile, diversifica la sua coscienza. e lo porta in una zona della coscienza dove può svolgere la funzione che gli è affidata. Abbiamo visto l'attività dello sciamano come psicopompo, cioè accompagnatore delle anime laddove non si entra. Ma lo sciamano era anche colui che curava nel villaggio e cura nel villaggio chi sta male. Questo è molto interessante. Perché nel momento in cui lo sciamano viene o veniva avvisato che qualcuno sta o stava male, iniziava un processo di cui ora vi descriverò le fasi. A noi in questo momento, in questo convegno, non ci interessa condividere quella mappa. ci interessa concepirne e comprenderne i simboli. Perché comunque sono un arricchimento. Esattamente come la dottoressa Pagani diceva ieri per le favole. Non è che se io leggo Cappuccetto Rosso credo davvero che una bambina può essere vissuta nella pancia del lupo aspettando il cacciatore. Ma capisco il simbolo. Allora, lo sciamano viene avvisato che qualcuno sta male. L'evento dello star male in quella mappa lì, e questo è molto interessante, non è un evento individuale. Se uno sta male, stanno male tutti. E lui interviene in forza di tutti. Allora lui cosa fa? Interviene presso il manato e costruisce un cerchio intorno al manato fatto di persone del villaggio che partecipano all'attività terapeutica. Si potrebbe dire, anzi bisogna dire, che lo sciamano descrive intorno alla persona un mandala. E Jung ci spiegherebbe quanto questo sia importante. La persona viene collocata al centro di un mandala. E dentro questo mandala, il cui confine è descritto da persone e dentro il quale poi si colloca lo sciamano per fare il suo lavoro, questo mandala, forse che non è il setting, quello che chiamiamo setting, sì lo è. Perché oggi, quando un terapista, un terapeuta, uno psicologo, un operatore, chiunque che stia in relazione d'aiuto vuole aiutare un altro, se lo vuole aiutare, deve essere capace di co-creare con lui un cerchio dentro il quale vengono condivise delle cose. Jung su questo ha scritto delle cose mirabili. Lui addirittura faceva disegnare ai pazienti il loro mandala come mappa della coscienza per capire dove era il problema e come risolverlo. Ma su questo torneremo. Un aspetto del setting che si è perso è che noi, ma non è un male di nuovo, è un sentire diverso, l'abbiamo ribaltato. là era importante che l'avvenimento malattia, l'avvenimento star male venisse collettivizzato. Qua è importante la privacy, cioè per noi è fondamentale che il setting sia tutelativo della persona che ci parla. Si deve sentire protetto dalle ingerenze che vengono dall'esterno. Là non c'era un esterno che poteva ingerire. L'esterno è partecipativo, non può non esserlo perché il problema è di tutti. E guardate che è una cosa interessante questa perché in quel modo di sentire lì se uno sta male vuol dire che una parte della sua coscienza è stata rubata un pezzettino della sua anima da qualcosa di esterno. Cioè è venuto qualcosa che ha sottratto un pezzo dell'anime e l'ha portata via. Ovviamente noi non siamo tenuti a credere a questa cosa ma possiamo coglierne l'importanza a livello antropologico. Il più grande antropologo delle medicine che è il dottor Scarpa che ha scritto libri enormi su questo puntualizza proprio questo punto perché è importante cogliere che l'attacco è esterno in quella mappa lì perché se l'attacco è esterno uno la persona che sta male non se ne sente incolpato non stai male perché te lo meriti due l'attacco non è solo a lui ma è a tutto tutta la comunità ed esattamente come quando il leone o il lupo attacca alle gazzelle loro fanno quadrato per cercare di difendersi l'un l'altro e come facevano gli antichi romani si dispongono a protezione così il villaggio si chiude nel mandala e la funzione dei partecipanti è anche quella che coloro che hanno attaccato e che quindi hanno sottratto pezzi di anima non tornino a fare la stessa cosa durante il processo di guarigione quale lezione possiamo trarre noi oggi quale lezione posso trarre io oggi ci dicono una cosa che la gestalt ripete in continuazione un gruppo di persone è più della somma delle sue parti ma d'altronde chi di voi ha partecipato o conosce le costellazioni familiari di Hellinger sa che Hellinger le studia in Africa e dall'Africa le porta in Occidente perché è di nuovo un rituale di guarigione dove vengono messe in scena le dinamiche disfunzionali il villaggio si pone a cerchio chiude il mandala quindi protegge il sofferente nella logica di dire oggi il sofferente sei tu ma domani potrei essere io la gazzella colpita dal leone anzi di più perché oggi sei tu lo sono anch'io e quindi io partecipo a questa cosa e lo sciamano dentro il mandala disegnato dalle energie delle persone che partecipano al rito di guarigione comincia il suo lavoro sciamano che può essere arrivato a fare lo sciamano vi ho detto che noi usiamo questo termine estensivamente per diverse aree geografiche anche a descrivere realtà terapeutiche che col sciamanismo ci entrano poco però lo sciamano quello sciamano là è diventato sciamano come? Per ereditarietà di famiglia lo sciamano può essere sia un uomo che una donna conoscete l'esperienza delle donne di medicina oppure per elezione della popolazione che lo ha scelto e lo ha esaltato in quel ruolo oppure perché spontaneamente di colpa ha cominciato a manifestare queste capacità però attenzione bene quando la persona sofferente e lo sciamano entrano nel cerchio non possono entrare nel cerchio secondo quel modello e quella mappa con la loro coscienza cosciente dell'io perché quella lì è quella che è stata attaccata c'è bisogno di uno stato diversificato di coscienza per tutti e due per tutti e due allora molto spesso il sofferente è in uno stato diversificato di coscienza dato dalla sofferenza dal problema che porta e guardate che in quella mappa l'asse il sintomo che porta è un sintomo cronico i rimedi che lo sciamano prescrive sono tutti atti a portarlo a un stato acuto spesso con la febbre perché la persona deve bruciare perché se brucia A si purifica B si disconnette da sé ma se lo sciamano entrasse in quello che abbiamo chiamato mandala senza uno stato diversificato di coscienza potrebbe pensano loro raccogliere i simboli della sua esperienza e comprenderli la risposta è no allora anche lo sciamano diversifica la propria coscienza e dopo vedremo come lo fa ma anche quando non ci sono oggi diremmo patologie gravi loro avrebbero detto attacchi rilevanti per cui lo sciamano deve iniziare questo tipo di lavoro beh lo sciamano fa l'analisi della persona fa l'analisi della persona che sta anche bene come la fa la fa attraverso uno strumento potentissimo ieri il dottor Norcia diceva attenzione ai sogni attenzione ai sogni che sono segnalatori e la dottoressa Tazioli ci ha ricordato l'importanza che Freud attribuisce a questa realtà perché nei sogni noi perdiamo quel controllo che l'io vuole assolutamente non a caso che nelle crisi d'anza più gravi ma anche medie anche su base depressiva nelle depressioni l'insonnia è un sintomo comunissimo perché perché la persona non vuole perdere il controllo perché se perde il controllo lascia spazio a quell'angoscia da cui sta sfuggendo allora il sogno ritraduce in simboli il disagio o meglio il sogno ritraduce in simboli il mandala della coscienza della persona e uno spazio centrale ce l'ha il disagio quindi però per lo sciamano per le filosofie orientali per le medicine tradizionali il sogno non ha una valenza solamente psicanalitica ha una valenza diagnostica nel senso che aiuta il curatore a capire dov'è il problema questa valenza diagnostica del sogno noi la conosciamo ancora oggi nell'omeopatia unicista gli omeopati usano ancora il sogno per comprendere la diagnosi le ziologia del problema e nella medicina tradizionale cinese addirittura i medici tradizionali cinese sono così abili che dal sogno riescono a capire l'organo che deve essere trattato e i più bravi addirittura il meridiano che deve essere trattato con l'agopuntura dal sogno ma il sogno non ha solo per lo sciamano invece tanguso il sogno siccome rivelava la diagnosi gli diceva poi anche quali rimedi nel mondo della natura usare e quali no ma il sogno non ha solo una valenza diagnostica ha una valenza terapeutica il sogno come la febbre è in quella tradizione il primo tentativo della persona di curarsi pensate bene come ragionano e poi vediamo come possiamo ritradurre noi questi archetipi nella nostra relazione d'aiuto allora io sono stato attaccato qualcosa di esterno ha rubato un pezzo di me e se l'hai portato via creando una falla nella mia coscienza falla attraverso la quale c'è una dispersione che ha creato il sintomo e la malattia ma se io mi sono reso vulnerabile all'attacco pensano loro è perché questa coscienza deve comprendere qualcosa si è resa fragile in qualche punto è un'esperienza per capire loro dicono e Antonio Scarpa dice delle cose eccezionali su questo se lo sciamano si limitasse a dire alla persona cambia in questo e non ti ammali più beh la persona probabilmente quella roba lì l'avrebbe già fatta da solo evidentemente quell'informazione non gli può arrivare così ha bisogno pensano loro di un filtro il filtro è la restituzione al simbolo il simbolo arriva attraverso il sogno perché? perché emerge dalle parti non controllate di noi e perché essendo simbolico e quindi criptico e quindi mi verrebbe da dire artistico che va interpretato non pone la persona direttamente a confronto con il problema come costringendola a guardarsi in uno specchio ma lì permette una serie di passaggi integrativi di comprensione che gli rendono digeribile la realtà con cui sta facendo i conti lo diceva anche chi mi ha preceduto noi ci difendiamo da ciò che ci fa paura non possiamo averne un contatto così diretto abbiamo bisogno di schermi il sogno propone lo schermo del simbolo ed è mirabile attenzione però lo sciamano interroga la persona sul sogno gli chiede il sogno e va nei suoi simboli ma non glieli spiega non dice una parola sul significato del sogno allo sciamano non interessa il sogno della persona tanto per spiegare ma se ne lascia pervadere e la notte dopo sogna a sua volta allo sciamano interessa il suo sogno perché gli interessa il suo sogno a perché l'ha fatto lui e quindi ne ha un'esperienza diretta non è raccontato b perché è l'incontro tra due mappe che ne fanno una terza allora lo sciamano interpreta il suo sogno derivante dal sogno dell'altro in uno stato diversificato di coscienza e la relazione si stringe la relazione terapeutica non è secondo me troppo forzato vederci qualcosa che facciamo noi oggi quando cerchiamo di porci con la persona che abbiamo in relazione d'aiuto nell'approccio che cerca di insegnarci Carl Rogers cioè di empatia piena ma di stupore e piena comprensione di quello che l'altro cerca di portarmi quindi lo sciamano risogna il sogno del sofferente questo è molto importante e molto spesso poi da sveglio lo dipinge gli sciamani non sono solo sacerdoti e terapeuti sono poeti e pittori perché dipinge il sogno che ha fatto sul sogno del sofferente perché quello si glielo presenta e gli dice guarda cosa ho sognato dopo che tu mi hai parlato di te guarda cosa è diventata la tua esperienza dentro di me cosa ottiene l'altro si sente ascoltato compreso restituito ricompattato dalla frammentazione molto spesso però quest'operazione da sola dice Antonio Scarpa che gli ha studiato tanto non basta se non basta si costruisce il setting di cui vi parlavo prima veniva costruito quel setting e viene ancora in quell'area costruito quel setting quindi lo sciamano costruisce l'area intorno fatta di persone che quando devono tacere tacciono ma quando devono cantare cantano e quando devono ballare ballano perché questo costruisce nel loro modo di vedere un campo energetico oggi noi nei nostri termini occidentali potremmo dire che costruiscono una gestalt che non disperde energia poi abbiamo due diversificazioni di coscienza due distanziamenti dall'io che si percepisce una della persona che può avere ottenuto lo stato diversificato di coscienza perché sta male e quindi è la malattia che gli ha diversificato la coscienza oppure può fare la stessa cosa che fa lo sciamano che arriva a quello stato spontaneamente o attraverso l'assunzione di sostanze specifiche l'ayahuasca è famosissima lo sapete vuol dire letteralmente è un cocktail di due minimo due le importanti sono due ma possono essere di più droghe allucinogene vuol dire letteralmente in Tanguso liana della morte liana perché tiene agganciate due cose che sono lo sciamano e l'altro ma non solo lo sciamano ma tutta la comunità che lo sciamano rappresenta perché liana e non fune la liana non ha un movimento orizzontale la liana scende dall'alto verso il basso perché in quel momento lo sciamano quando si collega già prevede che non starà più sul piano orizzontale con la persona che aiuta ma avrà iniziato un viaggio e adesso vediamo dove va vi ripeto noi non siamo qui per aderire a queste credenze siamo qui per percepire la valenza archetipica di tutto questo di ritraduzione quindi diversificazione della coscienza dalla percezione della realtà si passa alla percezione del simbolo quindi il guaritore è guaritore sacerdote terapeuta poeta pittore ma è anche guardiano della soglia quale soglia? quella tra il mondo cosciente così come lo definiamo le ore del giorno le potremmo chiamare e la zona del simbolo entra in quella foresta di cui abbiamo parlato all'inizio e di nuovo deve trarre qualcosa dalla foresta da portare indietro che serve come valenza terapeutica va a caccia di ciò che è stato tolto strappato per andare a colmare un vuoto che cosa possiamo prendere da quell'esperienza e ritradurla ma che noi forse non dovremmo fare la stessa cosa e cioè non ci mettiamo con la persona a cercare di capire dove la ferita sta organizzando il suo mondo ma io penso di sì però guardate bene è una ferita che si presenta col valore del simbolo perché immediatamente lo sciamano che abbia raggiunto quello stato diversificato di coscienza attraverso un atto spontaneo che l'abbia raggiunto attraverso l'assunzione di una sostanza comincia ad avere visioni visioni che lo introducono nel viaggio il tema del viaggio è un tema potente perché lui non è tanto vero che esce dal mandala che ha disegnato intorno al paziente è più paziente che lui non chiamerebbe così e poi vi dico perché non lo chiamerebbe così però allarga il mandala ne allarga i confini fino a renderlo infinito perché lo fa? perché l'attuale mandala della persona che gli si sta ponendo di fronte comprende solo il suo star male non ha spazio per altro quando stiamo realmente male lo sappiamo quanto poco c'è per tutto il resto spazio c'è per tutto il resto e molto spesso quando il terapeuta cerca di focalizzare l'attenzione sugli aspetti che funzionano noi siamo irritati ci sentiamo poco compresi dice come io voglio parlare del fatto che sto male e te mi vuoi far parlare di quello che funziona ma io quello che ho bisogno di parlare del fatto che sto male il mio mandala comprende solo che sto male comprende proprio in senso di capienza allora lo sciamano allarga il mandala e lo fa attraverso un viaggio parte e cerca tre scopi allargare lo spazio di coscienza della persona che soffre fino a che possa includere la possibilità di guarire cogliere i simboli del suo star male e poi loro dicono fatevi colpire dalla forza dell'archetipo va a cercare gli animali di potenza i totem l'orzo il cervo l'aquila e che cosa sono questi che non sono forse le risorse interiori della persona e che cosa facciamo noi o cosa dovremmo fare cerchiamo solo gli aspetti disfunzionali o cerchiamo anche le risorse ma cerchiamo soprattutto le risorse loro li chiamano animali di potenza e ottengono il fatto che a noi ci sembrano un pochino tutti dei fuori di te un po' folcloristica questa cosa ma in realtà non è assolutamente vero ha una forza impattante enorme enorme quindi lo sciamano parte allarga il mandala cerca il sequestro del pezzo dell'anima per portarlo indietro come il monine nel bosco sul collo del defunto bisogna portarlo indietro e cerca di convocare gli animali di potenza perché vengano a soccorrere la persona che soffre che però vi dicevo non definirebbe mai paziente perché non la chiamerebbe mai paziente perché paziente è una parola latina che viene dal verbo pazio che vuol dire soffrire paziente vuol dire colui che soffre uno sciamano vi direbbe ma se io lo chiamo paziente cioè lo chiamo colui che soffre lo inchiodo a quell'identificazione lì allora forse il mandala si allarga penserebbe lo sciamano anche uscendo da questa definizione medicalizzata la stessa intuizione nel 1940 ce l'ha avuta quel car rogers di cui parlavo prima che non chiama più i pazienti pazienti ma inizia a chiamarli clienti per lo stesso identico motivo io preferisco chiamarle persone e mi piace chiamarle persone perché non mi piace tanto chiamarli clienti perché definisce rapporto in termini monetari non mi piace tanto chiamarli pazienti per non farli inchiodare sul fatto che soffrono mi piace chiamarli persone perché persone in latino vuol dire maschera e la maschera è importante perché è un simbolo è vero che a me la persona non mi si presenta nella sua totalità come io non mi presenta a lui nella mia totalità è l'incontro di due maschere ma la maschera non ha una potenzialità solo negativa ha una potenzialità anche positiva e poi queste maschere possono anche cambiare possiamo anche farne a meno vi ricordate ieri la dottoressa quando diceva Ettore deve togliersi l'elmo no? per baciare il figlio ma io posso chiedere a una persona che si è rivolta a me ora però sei davanti a me ma bisogna che ti tolga le maschere perché io se non ce la faccio la vorrei con te è quello che mi dice ma te scusa ma chi sei? no perché lo sciamano almeno aveva la validazione della comunità e te che validazione hai? il foglio sul muro che c'è scritto che sei un dottore? non credo proprio perché l'inconscio dei titoli l'io ci fa attenzione e fa anche bene per carità abbiamo studiato per un motivo ma l'inconscio se ne impippa grandemente gli interessa ho usato un termine molto francese cosa gli interessa? gli interessa sentire la presenza sentire un legame la relazione d'aiuto relazionarsi congiungersi ci sei allora se ci sei mi puoi anche aiutare e questo è bellissimo perché di questo ce ne dovremmo ricordare anche noi perché noi dovremmo un po' fare la stessa cosa andare a caccia delle risorse e dei sequestri questa cosa delle aggressioni esterne che la persona ha subito che è tipica di tutta la medicina siberiana di tutta la medicina lappone di tutta la medicina mongola e in America della medicina tradizionale dei pelle rossa che tanto fascino ha presso di noi e tutte queste medicine vedono nella sofferenza un attacco esterno anche nella medicina tibetana è così ma in forma un po' diversa e poi dopo in fondo anzi chiedo a Viviana di avvisarmi quando manca poco così perché questa cosa ve la voglio dire vedremo un'esperienza che c'è in Italia che si muove un po' sotto lo stesso contorno perché questo sciamano di cui parliamo dopo essere partito è partito e non è vestito casualmente ha un habitus conforme al ruolo per esempio a noi ci fa ridere un pochetto a me no personalmente perché sono un po' fuori di testa come loro però si indossa le ali delle acque dello sciamano lo sapete no? ha le piume le penne perché deve volare allora ha l'habitus che gli ricorda la funzione perché lui si deve costantemente ricordare che non è lui solo quello che si muove nella sua esperienza ma è il portatore di tutte le conoscenze dello sciamano del villaggio che l'hanno preceduto e il portatore di legittimazione di tutto il villaggio nel suo insieme parte in questo viaggio diversificato di coscienza convoca gli animali di potere suoi e della persona che si è rivolta a lui li fa incontrare e è molto complicato Antonio Scarpa lo descrive benissimo lui è stato tanto in Siberia e lo descrive benissimo gli fa dialogare chi ti ha rubato cosa? ma il chi ti ha rubato cosa? non lasciamoci trarre l'ingano dal fatto che viene qualcosa di esterno che ruba un pezzo di noi oggi potremmo dire che sono quelle emozioni cristallizzate di cui si parlava nel primo intervento la paura mi ha rubato l'afflizione mi ha rubato le cose che non supero i demoni inteso per demoni proprio la radice della parola di unamai che vuol dire potere potere colui che ha il potere di togliermi un pezzo di me quindi lo sciamano restituisce alla persona la sua interezza e il mandala si completa ma ieri la dottoressa Tazioli non ci diceva che fare terapia vuol dire costruire la storia della persona fino a che la può guardare in un modo senza precedenti lo sciamano l'avrebbe dipinta perché così come fa per il sogno anche dopo il rituale terapeutico dipinge un dipinto per la persona a volte dipinge un dipinto sulla persona e gli chiede di portarlo a mod di tatuaggio ricordati da dove sei passato perché in tutte le medicine di tradizione una via precisa per ammalarsi è fare sempre la stessa cosa che ci fa stare male ieri qualcuno ricordava Einstein lui diceva sempre follia è fare la stessa cosa e aspettarsi un risultato differente quindi lo sciamano gli dice eh non puoi continuare a passare di lì perché mi sa che abbiamo capito che non funziona bisogna cambiare bisogna cambiare vi dicevo prima è tutto molto interessante credo che facciamo un pochino la stessa cosa perché è un archetipo però c'è un'esperienza che vi voglio raccontare che è interessante perché se noi oggi meno oggi è molto folklore quello che vi sto per raccontare come è folclore andare un po' nelle riserve degli indiani che abbiamo costretto un po' a fare gli indiani a vantaggio nostro però se fossimo andati fino a tutti gli anni sessanta a Galatina in Puglia in provincia di Lecce il 29 di giugno sul sagrato della chiesa dei santi Pietro e Paolo nella festa di San Paolo cosa avremmo visto? Avremmo visto donne soprattutto donne non solo donne ma per la stragrande maggioranza donne che a un certo punto iniziavano a ballare forzennatamente e intorno a loro che cosa avremmo visto? Un cerchio di persone che suonano soprattutto i tamburelli ma non solo e tengono il ritmo chi sono quelle donne? Sono le tarantate che cosa succede in quell'esperienza lì che un altro antropologo enorme che si chiama De Martino ha descritto in un libro che vi consiglio assolutamente di leggere si chiama La terra del rimorso che cosa è successo lì? Che un ragno la taranta si è infilato sotto le gonne delle donne è a morso è un ragno velenoso cosa produce il veleno del ragno? Le fa uscire di senno fa perdere il controllo Ernesto Di Martino è stato tantissimo in quella terra ha parlato con decine e decine di tarantate e ne ha riportato l'esperienza noi lo sappiamo che il ragno velenoso non esiste non ci sono ragni velenosi in Italia con questa latitudine è un simbolo anche se Nicola Capuano un medico del Settecento che parlava con le pazienti cerca di disegnarlo e su internet trovate i disegni che Nicola Capuano fa di questo ragno ma è un simbolo allora la taranta viene morza e il veleno del ragno può produrre due effetti questa o perde il controllo nel senso che comincia da sola a cantare e ballare oppure perde i freni inibitori sessuali non a caso si denudano si spogliano e chiedono di fare sesso oppure si deprimono completamente e diventano totalmente apatiche totalmente abuliche totalmente incolori è una cosa che ricorda molto i corribandi e i riti ionesiasci dell'antica Grecia ora però De Martino in questa terra del rimorso non parla solo del morso del ragno parla anche del rimorso come stato come impressione della coscienza io provo rimorso quando faccio qualcosa che nella mia mappa valoriale non va bene però non cadiamo in un tranello il rimorso non è per ciò che le tarantate fanno dopo il morso del ragno dice De Martino ma è per tutto il mondo interno che hanno represso prima e che grazie al veleno del ragno emerge loro si consentono di esprimere ciò che non avrebbero espresso mai De Martino lo dimostra queste persone quasi sempre sono le più rigide quelle con le mappe più rigide della comunità e perdono completamente i freni inibitori escono dal controllo e guardate che molto di quel viaggio sciamanico che abbiamo visto prima ritorna perché di nuovo gli viene detto a queste donne non è colpa tua sei stata morsa da qualcosa di esterno e gli viene detto come oggi sei stata morsa tu domani potrei essere morso io quindi oggi tu balli perché loro si ritrovano sul sagrato della chiesa di San Paolo il 29 di giugno per chiedere al santo la liberazione dal veleno del ragno ma tutti suonano e cantano intorno alla tarantata e costruiscono un mandala che è il diario della coscienza di queste persone che vengono dal veleno del ragno che è un'allegoria sbalzate alla periferia dei propri livelli percettivi conoscono una parte di sé che non avrebbero conosciuto mai ultima notazione poi mi fermo ma non è questa il morso del ragno molto spesso la funzione del trauma che arriva improvviso con un colpo di spada direi di sì trauma è un'altra bellissima parola avrete capito che io sono molto affezionato alla storia delle parole trauma viene dal greco quindi a sua volta viene dall'indo europeo trauma viene da un verbo che è titrosco che vuol dire ferisco con la lancia o con la spada e trauma vuol dire ferita che sanguina ancora perché in psicologia la sistemica relazionale ce la insegna la ferita che non sanguina più tecnicamente la possiamo chiamare traumatismo ma il trauma è una ferita che sanguina ancora allora arriva il trauma è il veleno della taranta e la persona che aiuta costruisce un mandala intorno alla persona che soffre e legittima il suo star male gli dice lo comprendo lo capisco è nei fatti è un dato di realtà è successo a te ma può succedere a tutti e partiamo per un viaggio alla ricerca dei simboli perché se cerchiamo i simboli forse il ragno può essere sconfitto ci sono tarantate che ogni estate ricominciano ad avere questi movimenti inconsulti che la psichiatria studia e le chiama sintomi epilettoformi cioè si comportano come l'epilessia ma non a caso però l'epilessia in quella cornice là in quella mappa là veniva chiamata male sacro perché l'epilettico è al confine tra la coscienza e l'incoscienza e questo confine viene superato di colpo senza che lui abbia la possibilità di controllo anzi in alcune forme di sciamanesimo l'essere epilettici è un criterio di lezione A ho quasi finito è veramente bello con partecipare con voi queste cose però volevo fare un'ultima annotazione molto spesso l'antropologia la filosofia la scienza litigano io trovo che se ripeschiamo gli archetipi così cari a Jung che non a caso per tutta la vita ha cercato di essere un ponte fra questa tradizione e quella se ripeschiamo il concetto di archetipo forse possiamo trovare ciò che di comune ci lega a tutti e permettere ai vari contributi di incastrarsi vi dicevo lo sciamano esce dallo stato di coscienza diversificata non è corretto dal punto di vista antropologico dire alterata perché se no daremo più dignità a una coscienza piuttosto che all'altro allora diremo che per la coscienza più dignità la veglia che il sonno ma non mi pare che passiamo poi tantissimo tempo e meno a dormire che a vegliare almeno una persona di 75 anni ne passa almeno 25 dormendo avranno una dignità le cose che fa mentre dorme allora gli stati di coscienza diversificati sono importanti se ne cogliamo gli archetipi e se cogliamo gli archetipi di queste esperienze forse possiamo fare come lo sciamano e cioè ed è l'ultima cosa che dico è entrare nella foresta e portarci indietro un monile perché altrimenti il rischio è ad abbarbicarci alle zone del giorno in una zona in cui il bosco non lo vogliamo neanche vedere perché è pericoloso che quando dobbiamo per età o per esperienza di malattia per forza e per necessità avvicinarsi al limitare del bosco e la morte si affaccia o quando si affaccia il bosco nella storia di chi amiamo se non abbiamo lavorato sulla capacità di portare indietro un monile questa cosa ci devasterà perché c'è una dicotomia non dialogativa tra il bosco e il villaggio noi dobbiamo conservare sullo sfondo che ci sono gli alberelli che bisogna avvicinarsi agli alberelli allora permettiamo a una parte di noi di fare questo viaggio di farlo ritualmente finché siamo vivi perché così saremo più pronti ma essere più pronti vuol dire anche non far diventare il tema della morte la feritoia attraverso cui passa la possibilità di ammalarsi grazie 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 grazie